Ciao super bellezze, ben arrivati alla lezione di social dance di Io mi rinforzo, italiana fitness. Io sono Ignazio, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte e buongiorno. Le ho detti tutti perché questa è la possibilità che ci danno i video on demand come questo, lo puoi vedere tutte le volte che vuoi, quante volte vuoi e soprattutto all'orario che vuoi. Perciò mettete che le vostre abitudini di quarantena sono diverse rispetto al normale, mi sembra giusto non lasciare dietro nessuno. Insieme per i prossimi minuti balliamo, qui si fa questo, le altre lezioni dei miei colleghi vi spiegano altro, vi fanno vivere altro e in questo caso invece con me ci detossiniamo, ci teniamo un po' così in movimento, in forma, diciamo possiamo utilizzarlo come un riscaldamento per poi fare qualunque altra lezione di Io mi rinforzo che trovate gratuitamente su tutti i canali social di Italiana Fitness. Detto questo la premessa è stata lunga, mi rendo conto, e adesso possiamo ballare serenamente, con calma anzi direi. E questo è un piccolo suggerimento per la canzone che stiamo per ballare adesso. Prego, prego la regia, grazie, grazie mille. Scusate, prego regia, possiamo cominciare. Ecco, forza. Scusate, prego regia, grazie a tutti. Aggiungo. Aggiungo. Giro. E andiamo. Giro in avanti. E dietro. E vado di qua. Giro indietro. Da capo. Giro. Pietro. Giro. 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 Ancora. Giro. 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 aspetto per la prossima canzone, fermo qui, dove vado, io volevo stare a casa. 1, 2, 3 2, 3 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 4 5 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 30 30 30 30 30 31 31 32 33 33 33 33 33 34 Grazie a tutti 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 1-1 Grazie a tutti 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 So che Grazie a tutti 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 E quindi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti